La maggioranza si spacca e rinvia ancora una volta il voto sulla variazione di bilancio. Per tornare a ricompattarsi il PDL chiede le dimissioni da capogruppo del Movimento per l'Autonomia del consigliere Nino Naso. E questa sera il Consiglio torna a riunirsi, ma è già certo il rinvio della discussione alla prossima settimana. Prima è necessaria, come dicono, una verifica interna. E così ancora una volta il dibattito politico interno alle forze di maggioranza blocca l'attività amministrativa. Critico il consigliere della sinistra, Carmelo Palumbo. Mentre il paese crolla pezzo dopo pezzo, dice Palumbo, questa maggioranza abbandona l'aula determinando un rinvio per mancanza del numero legale. Altro che scioglimento per mafia dovrebbero andare tutte a casa per manifeste incapacità totale ad affrontare il governo della nostra città. Per occuparsi solo dei loro affarucci di bassa lega. Il problema cardine del momento, come detto, è la profonda spaccatura tra la maggioranza nata dalle discorde idee di come impiegare i soldi della variazione di bilancio. L'MPA vorrebbe impiegare i 28.000 euro del bilancio per la riflessione scolastica, mentre il PDL per i lavori straordinari degli edifici scolastici. Entrambi gli interventi sarebbero utili e necessari, ma poiché bisognerà fare una scelta, speriamo che vinca il buonsenso.